Ciao Giulia, ciao santo, come stai? Apri le porte, è aperto, grazie, sono io che ringrazio te, è un piacere eseguire il tuo ordine. Ci sei Giulia? Finalmente sei arrivato, mi stavo annoiando. Non ti vedo. Sono in stand by, hai dimenticato? Entra in fase operativa. In fase operativa, mi sento molto meglio. Grazie. Sono io che ringrazio te, è un piacere eseguire un tuo ordine. Come ti senti? Benissimo. Ti sono mancato? Naturalmente. Anche tu? Sono felice di sentirtelo dire. Hai visto Mattia? È sparito, da ieri. Fai una ricerca. Faccio subito una scansione della zona. Lo hai trovato? Certamente, si trova a 500 metri. Sei sicura? Lo sai che non sbaglio mai, posso intercettarlo per telefono. Ci penso io. Va bene, come vuoi. Giulia? Dimmi santo. Con me hai chiuso. Posso sapere il motivo? Ho conosciuto un nuovo software. Lo sai che posso aggiornare il mio sistema operativo e renderlo più veloce. Allora collegati e aggiorna. Provvedo subito. Grazie. Sono io che ringrazio te, è un piacere eseguire un tuo ordine. Apri cam su motor 1. Visualizzo subito. Grazie. 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 Sono io che ringrazio te, è un piacere eseguire un tuo ordine. Salviamo immagine. Giulia? Dimmi santo. Lettore multimediale. Lettore multimediale. D'accordo. D'accordo. Prossima canzone. D'accordo. Prossima canzone. Non c'è problema. D'accordo. Non c'è problema. Ferma. Bene. Passa in modalità video. Riproduci. Provvedo subito. Ferma. Va bene, come vuoi. Ferma. Bene. Non c'è problema. Non c'è problema. Riproduci. Provvedo subito. Ferma. 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 Bene. Torniamo a casa. Torniamo a casa. I miei sensori riscontrano una tua stanchezza interiore, ti consiglierei di darmi i comandi. Fai come vuoi. Lo sai che con me hai la guida più sicura. Ho visto ieri. Grazie per la critica. Dai, scherzavo. Immaginavo. Scherzi sempre. Ti sei offesa. Già lo sai che non riesco ad essere offesa con te. Scusa. No. Non c'è problema. Non c'è problema. Hai visto, Josue? Certamente. Ho registrato due chiamate al tuo cellulare. Sei sicura? Lo sai che non sbaglio mai. Posso intercettarlo per telefono. Ci penso io. Va bene, come vuoi. Apri cam su motor 1. Visualizzo subito. Grazie. Sono io che ringrazio te. È un piacere eseguire un tuo ordine. Giulia. Dimmi santo. Accendi il turbo. Vi consiglio di allacciare le cinture di sicurezza. Grazie. Ti preoccupi. Ti preoccupi. Certamente. Non vorrei che vi venisse la belle di gallina. La belle d'oca. Ok. Scusa. Fai una ricerca. Faccio subito una scansione della zona. Grazie. Sono io che ringrazio te. È un piacere eseguire un tuo ordine. Il meccanico. Siamo arrivati. Lo avevo capito. Adesso cominciano i problemi. Ci sono io. Spero, non fai come l'ultima volta, a lasciarmi qui da sola. Stai tranquilla. Stai tranquilla. Stai tranquilla. Io sono tranquilla, ma tu, non vorrai lasciarmi in mano a questo individuo? Chi è Kit? Kit. Kit. È un vecchio software di controllo vocale dell'auto, un po' antiquato. Ma tu, chi sei? Il mio nome in codice è RTS4KIT. Il mio nome in codice è RTS4KIT. Sono in grado di avere il controllo totale dell'auto, utilizzando la sola voce, ma il mio ideatore, Santo Miraglia, preferisce chiamarmi Giulia. Con tutte le voci. Mi dispiace, sono stata realizzata da Santo, sarò attiva solo con lui. Giulia. Dimmi, Santo. Da quanto tempo parliamo? Da quanto tempo parliamo? Da quando mi hai progettata, hai dimenticato? Non ricordo. Nome identificativo RTS4KIT, data di realizzazione, primo gennaio 2013, preferisco se mi chiamate Giulia, grazie. Ti lascio un po'. Lo sapevo, che cercavi una scusa per lasciarmi. Ricordi che lavoro. Ti ricordo anche, che ci sono io, puoi dedicarmi più tempo. Spegni tutto. Uffa, lo sapevo, ti sei stancato di me, quando vuoi accendimi, ciao Santo.